Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Annunciato un nuovo set che riguarda le Duel Terminal E prima di iniziare come sempre ragazzi mi invito a iscrivervi al nostro canale Prima di dire sempre Aggiornati con il mondo di Yugi Mi raccomando ragazzi è importantissimo Grazie mille Piccolo annuncio per ripartenza Da domani finalmente sarò fuori Quindi poi lo riscriverò come sempre alla scheda community Quindi ci facciamo questa piccola pausa estiva Dove probabilmente gli aggiornamenti verranno portati Al limite potranno slittare di un pochino Perché magari possono uscire mentre non posso farli Quindi magari posso slittare di un pochino Gli altri video forse ne metterò qualcuno Ma non ce ne saranno troppi Quindi pausa intesa per pausa stavolta Magari ci sarà uno ogni tre giorni Metterò un video così Magari ricordate che ci sono Quindi aspettatevi perché poi da quando torneremo Partiremo a manetta Detto questo grazie mille per l'attenzione E andiamo a vedere Terminal World OCG Allora special pack Che 25 cosimo anniversario Che Include le carte inerenti a dual terminal Non ci ha confermato che ci saranno supporti Ice barrier e infernoid Per quanto infernoid Non me lo ricordo nel dual terminal Però vabbè potrebbe esserci Se io non me lo ricordo Cosa che è molto più probabile Che io mi scordi Allora E si Include tante carte Ricordanti il tema Dual terminal Include quattro temi esistenti Con nuove carte E nuove artwork Per le carte esistenti Ok Quindi ci saranno anche delle artwork alternative Quattro temi Quindi due sono Ice barrier E E Infernoid Poi ci saranno un pezzo di Exodia Per commemorare Il 25esimo anniversario Ogni dual terminal Contiene anche E Due all'auletto Contiene anche Una super O E Un'altra carta di maggiore Rarità Quindi il set completo E' fatto da 145 carte Più una special card Ogni pacchetto ha 5 carte 145 comuni 12 possono essere trovate Anche in Carter Century Secret Rare 24 Ultra rare O parallel Secret Rare Secret Parallel Foil 40 possono essere trovate Anche come Super rare Super parallel Secret Rare Secret Rare Parallel E tutti gli altri Possono essere trovate Normal In parallel Foil Nel dubbio Non è comune Un foil C'è per forza Quindi Allora Diciamo che Possono essere messi Anche Cioè Perché In dual terminal C'è anche Naval C'è Naturia C'è I Dragonidi C'è Jurrak C'è I Fable C'è un sacco Di roba Quindi Tu metti solo 4 temi Diventa complicato Di cui 2 sono già Ice Barrier E Infernoid Però Vediamo Speriamo che Ice Barrier Possa prendere Questo upgrade Che merita Anche se Secondo me Non credo Riesca Non so Penso sia un set Che comunque Non faccia uscire Le carte Troppo sbroccate Poi non lo so C'è un supporto La dura E sbraccatissimo Può essere tutto E poi Andiamo a vedere Il miglior starter Della vita Ovvero Il Porco spino Da soccorso Sì effettivamente Non mi serve Neanche andare sotto Perché Mi hanno messo L'effetto qua Perfetto Possiamo Bandirlo Mentre lo controlliamo Per specializzare Due mosti Livello 3 O inferiore Dal deck Con lo stesso Tipo attributo Il livello Uno deve essere normale L'altro con effetto Ma Vediamo gli effetti Di tutti e due Anche se è normale Vabbè E in più Gli spacchiamo Durante line phase Può essere Un attino Per Uno starter Per sprite Melfi Non lo so Può essere Ricca Sall'Avalon Può essere Non vi so dire Non vi so dire Sono mazzi Che non gioco Quindi non vi so dire Può essere una carta Super OP Per il mazzo bestia Assolutamente Sì perché Non c'è neanche Da discuterne Poi con il re bestia Quello là nuovo Che è in mura Gli effetti Attivi Dei mostri Possiamo fare Un deck Veramente eccezionale O magari comunque È molto più forte Di quello che si pensa Comunque è uno startino Che tu vai a bandire Quindi manco te lo negano Quindi te lo devi bandire D'agosto Quindi Non è male Detto questo ragazzi Fatemi sapere Cosa ne pensate Noi come sempre Ci vediamo In un prossimo video Che Però vi dico Per ovvie ragioni Non ci saranno Tutti i giorni Però Come sempre Ci vediamo In un prossimo video E un saluto a tutti E un saluto a tutti